ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi voglio presentarvi un'altra mod che mi è stata gentilmente concessa da motori nella leggenda ringrazio tantissimo luca l'azzarato come al solito è lui che promotore di questa mia recensione stiamo parlando della vlmc 2018 c'è virtual le man classic in cui appunto motori nella leggenda ha proposto un campionato dedicato stiamo parlando di ben 22 auto ragazzi classiche stiamo parlando di ad esempio alfa romeo giulia tz2 dell'alfa romeo t33 stiamo parlando dell'austin arla i3000 mk2 stiamo parlando di una ferrari 250 gt ragazzi stiamo parlando della 250 gt os1 sempre ferrari stiamo parlando della 330 p4 gts stiamo parlando della 330 p4 lm e si ragazzi ne ho 22 da dire la ferrari 512 s la 512 s coda lunga stiamo parlando della ford gt mk1 della ford gt mk4 della ford mustang 1966 lm che c'ha un rombo ragazzi che fa impazzire stiamo parlando della jaguar e type 4002 stiamo parlando della lola t70 mk3 della lotus cortina 1966 ragazzi non finiscono mai della matra simca ms 650 della porsche 917k stiamo parlando della 917 long tail sempre della porsche stiamo parlando della carrera 906 lm della carrera 908 03 stiamo parlando della carrera 911 lm stiamo parlando della shelby daytona gt ragazzi incredibile è una mod che non finisce mai veramente mai infatti questa mod potrete testarla con in public release pesa circa un giga e 6 se non sbaglio e se in più l'associate con il circuito classic leman del 1967 che sempre motori nella leggenda luca lazzarano mi ha passato ragazzi sembra di rivivere la storia realmente di quello che succedeva in quegli anni lì con questo tipo di auto adesso cosa posso dire di tutte queste auto che trasudano assolutamente passione quello che mi colpisce particolarmente sono sicuramente due elementi il primo è l'audio ogni auto ha un audio personalizzato una caratteristica propria a se stessa un qualcosa di veramente fantastico un lavoro certosino fatto sul comparto appunto dell'audio ora dove sono andate a reperire questi audio qua non lo so ma sono stati bravissimi la seconda è sicuramente la fisica di guida sono veramente micidiali il che mi fa venire la pelle d'oca solo a pensare quello che rischiavano i piloti e qui sono signori piloti rischiavano appunto correndo realmente in pista con questo tipo di auto sono incontrollabili ma è quella la bellezza delle auto storiche ed è quella la bellezza di poter reincarnare seppur virtualmente il pilota storico degli anni 60 70 per quanto riguarda la grafica io voglio essere onesto fino in fondo con voi ci sono auto che sono veramente ben realizzate ci sono degli interni che sono spettacolari ed altre che malgrado lo sforzo sia stato fatto sono un pelino troppo spartane forse la qualità dei poligoni e delle texture lasciano a volte un po' a desiderare ma questo fa parte di diciamo di una così grossa mod con tanti diciamo modelli disponibili e forse i modder si sono concentrati su modelli specifici invece che su altri ma non importa perché alla fine questa diciamo questa l'unica pecca che trovo in questo modo comunque si dimentica facilmente soprattutto quando si è al volante di mostri come la Shelby Dayton a gt per prenderne una dove un'auto che pesa 1043 kg con una potenza di 391 cavalli per 462 Nm che fa più di 307 km orari che sviluppa 2,67 kg per cavallo ragazzi ma voi la grafica ma che ve ne frega c'è ragazzi guidare questo tipo di auto è un sogno soprattutto per gli appassionati quindi ragazzi io vi consiglio assolutamente di andarla a scaricare dovrebbe essere presto in public release per maggiori informazioni vi lascio il link al gruppo facebook di motori nella leggenda dove potrete trovare Luca Lazzarato che è molto disponibile ormai penso che lo conoscete tutti anche il link del loro canale youtube in cui fanno veramente degli eventi spettacolari con queste macchine storiche io ragazzi non mi resta che dirvi che se il video vi è piaciuto e se questa mod è di vostro gradimento non esitate a lasciare un pollice in su lasciatemi un commento iscrivetevi al canale tanto è gratuito ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un video noi ci vediamo alla prossima da Fabrice è tutto grazie per avermi seguito ciao